Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La saccatura di origine atlantica, che ha portato maltempo nei giorni scorsi su buona parte dell'Italia centrosettentrionale, va rimarginandosi, garantendo un deciso miglioramento del tempo. Già da martedì una nuova perturbazione di origine atlantica interesserà nuovamente l'Italia, ma ne riparleremo. Andiamo a vedere il tempo sulle nostre regioni per domenica 16 ottobre. Al mattino possibilità di rovesci residui sulla Puglia centro-meridionale, Basilicata Ionica e Salento. Tempo in rapido miglioramento dal pomeriggio. Altrove giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in leggero calo, sia nelle minime che nelle massime. Venti deboli nelle zone interne, più sostenuti sulle coste, specialmente sul lato adriatico. I mari risulteranno da poco mossi a calmi. Ed ora ecco la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per averci inviato questo suggestivo scorcio d'autunno immortalato nei pressi di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. iscriviti al nostro canale.